Non è il solo il provvedimento depositato nelle scorse settimane da Comune di Taranto e Regione Puglia. Nelle ultime ore infatti il Presidente della provincia di Taranto, Martino Tamburrano, ha depositato al Tar di Lecce un ricorso ad adiuvandum, ovvero a sostegno della posizione del Governo e che pertanto si oppone all'iniziativa condotta dal Sindaco Melucci e dal Governatore Emiliano. Proprio quest'ultimo ha ribadito l'intenzione di non ritirare il ricorso fino a quando la salute dei Tarantini sarà in pericolo. Mercoledì 10 gennaio inoltre nuovo incontro al Mise tra M Investco e sindacati. Sarebbe dovuto giungere entro la fine di dicembre ma la scadenza non è stata rispettata. Aferpi non ha presentato come d'accordo il piano per la ripartenza dello stabilimento di Piombino realizzato da Sinostil, partner cinese di Sevital. Un intermedio mancato al quale si aggiunge un'ulteriore scadenza, quella del 16 gennaio, quando anche il laminatoio per rotaie fermerà la propria produzione. Sul fronte Magone invece giunge la conferma dei sindacati sulla firma di Arvedi di un preliminare di acquisto dello stabilimento di Arcelor Mittal. Cadrà il 15 gennaio il bando per un lotto di Blumi pronto, seconda scelta e venduto di produzione Exleali Steel con base d'asta di 3 milioni di euro. Le offerte migliorative dovranno essere presentate presso lo studio del notaio Reina di Trento. Sul fronte invece dell'affitto degli impianti non si placa la battaglia legale di Mostil. Mercoledì 10 gennaio infatti nuova udienza per nuovo appello da parte della società romana contro l'assegnazione degli asset alla Veneta BVS Steel. Un primo trimestre di crescita per il consumo di acciaio ma in rallentamento rispetto ai tre mesi che hanno chiuso il 2017. Il dato infatti dovrebbe scendere a più 1,3% a fronte del 2,7% precedente. Salirà invece il consumo apparente che dovrebbe trovare un incremento dell'1,1%. Saranno inoltre elettrodomestici e prodotti metallo a trainare la crescita del settore siderurgico a fronte di un rallentamento di automotive e meccanica strumentale. Tutti i numeri dell'acciaio nazionale ed europeo nell'analisi dell'ufficio studi di Siderweb. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il Siderweb Tg e da parte di tutta la redazione di Siderweb degli ottimi auguri per un sereno 2018. Partiamo ancora con Ilva perché le vacanze di Natale non hanno di certo abbandonato il polo siderurgico principale sul suolo nazionale. Al contrario ha occupato le prime pagine dei quotidiani nazionali così come i titoli dei principali telegiornali. La ragione ancora una volta è la querelli, natura squisitamente politica, quella che si è animata tra il governatore della regione Puglia, Emiliano, il sindaco di Taranto e il governo è in particolare responsabile del dicastero dello smiluppo economico Carlo Calenda. Ma non è finita, si va avanti, è ancora un ricorso, questa volta parte dalla provincia di Taranto, ma è a sostegno proprio del governo. Intanto c'è attesa per un nuovo incontro tra sindacati e AM Invesco che si terrà mercoledì 10 gennaio a Roma. Oramai è guerra di ricorsi sulla vicenda Ilva. Il presidente della provincia Martino Tamburrano, appartenente a Forza Italia, ha infatti presentato un ricorso al TAD di Lecce ad Aiovandom, cioè in aiuto al governo e all'Ilva, che si va ad opporre a quello presentato invece da Comune Regione Puglia sulla vicenda del DPCM sul piano ambientale. E' quindi una guerra tra istituzioni, quella che si sta scatenando a Taranto e provincia, anche perché il presidente della provincia Martino Tamburrano da parte sua ha ricordato come l'ente provincia abbia comunque un ruolo importante, soprattutto sulla vertenza ambientale dell'Ilva, in quanto è colei che rilascia i permessi nella gestione dei rifiuti e nell'utilizzo delle discariche. Inoltre, come tutti ben sanno, la provincia di Taranto conta migliaia di lavoratori Ilva che sono abitanti dei paesi limitrofi alla città e quindi non è un caso che si sono riuniti anche in un comune vicino Taranto, Montemesola, tutti i sindaci della provincia di Taranto per provare tutti insieme a mantenere una posizione unica. Lo stesso Tamburrano ha chiarito che in realtà il suo ricorso non vuole essere un qualcosa contro il comune di Taranto o contro la regione, ma vuole essere un segnale per tutte le istituzioni a remare tutte dalla stessa parte. Di contro, il governatore Emiliano ha dichiarato che fino a quando la salute dei tarantini sarà in pericolo, lui il ricorso non lo ritirerà. Nelle prossime ore arriverà a Roma, al Ministero dello Sviluppo Economico, l'accordo di programma che i tecnici della Direzione Ambiente del Comune e i tecnici della Regione Puglia, in primis Barbara Valenzano, avranno redatto che sarà una controrisposta al protocollo di intesa che il governo nei giorni scorsi ha inviato a Comune e Regione. Mercoledì, infine, nuovo incontro a Roma tra governo, sindacati e Arsola Mittal per riprendere la discussione sul piano industriale nonostante il caos di questi ultimi giorni. Gian Mario Leone, Taranto Luce d'ombra piombino in questi primi giorni del mese di gennaio. Le ombre sono ancora legate ad Aferpi perché Sevita l'ha mancato un altro intermedio che era quello che voleva che entro la fine del mese di dicembre venisse presentato il piano di rilancio industriale del polo siderurgico toscano. Un piano che avrebbe dovuto essere redatto dai partner cinesi Sinostil ma che non è arrivato. Intanto si avvicina l'ombra di un ulteriore spegnimento, quello del treno Rotaie. Le oluci invece sono concentrati sull'altro stabilimento siderurgico piombinese, quello della Magona d'Italia di proprietà di Arsola Mittal, un significativo passo in avanti è giunto nella trattativa con il gruppo Arvedi. Giorgio Pasquinucci Il piano che i cinesi di Rasino Stil, il nuovo pattern indicato da Cevital per la ripresa dello stabilimento siderurgico di Piombino ancora non c'è, nonostante la promessa di presentarlo entro dicembre. Un altro appuntamento mancato, mentre il 16 gennaio si fermerà anche il laminatoio per rotaie, l'unico in funzione, senza alcuna certezza sulla continuità degli approvvigionamenti dei semiprodotti. Una situazione che sta allarmando i sindacati che nei giorni scorsi sono tornati a chiedere un incontro urgente con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il tempo sta lavorando contro la ripresa della produzione di acciaio e vogliono dunque avere maggiori certezze sulla protezione economica dei lavoratori, sui tempi delle procedure in atto per la risoluzione del contratto con Cevital e sulla consistenza dell'interesse manifestato da altri gruppi industriali per lo stabilimento. La procedura di risoluzione del contratto con Cevital, avviata dal commissario Lucchini Pierunardi, accompagnata da una richiesta d'anni per 80 milioni, sta facendo il suo corso, ma non c'è, realisticamente, da attendere prima di sei mesi il pronunciamento del Tribunale di Livorno. Tempi che, secondo i sindacati, potrebbero essere accorciati se la procedura Lucchini passasse dalle contestazioni delle delimpienze a quella di insolvenza prospettica, che consentirebbe di porre in amministrazione straordinaria la stessa Ferpi, in attesa di un nuovo acquirente. Come assicurarne nel frattempo l'attività produttiva? In questo caso i sindacati ipotizzano che i nuovi scenari vengono accompagnati da un intervento della Cassa Depositi e Prestiti. Mentre la situazione di Aferpi è in pieno stallo, in attesa del nuovo incontro col Ministro, la novità in questi giorni è arrivata per la Magona, lo storico stabilimento piombinese che produce colze zincati e preverniciati, occupando circa 500 lavoratori. Il Cavaliere Giovanni Arvedi, infatti, secondo quanto ufficialmente dichiarato da sindacati dall'amministratore delegato di Magona, Leandro Ranipieri, ha firmato un preliminare di acquisto dello stabilimento dall'ArcelonMittal, un passaggio di mano ancora tuttavia subordinato a due condizioni. Il perfezionamento degli atti di cessione dell'Irba di Taranto alla multinazionale franco-indiana e il pronunciamento favorevole della Commissione Antitrust Europea, chiamata a stabilire se la cessione di Magona è sufficiente a evitare una posizione di predominio di ArcelonMittal nel mercato dei piani zincati. Il primo giudizio dei sindacati sull'azione è positivo, anche se non manca la prudenza in attesa di un piano industriale, soprattutto perché potrebbe evitare che lo strumento piombinese venga soffocato dalle analoghe produzioni degli stabilimenti dell'Irba di Novi Ligure e Cornigliano, che ArcelonMittal si è impegnato a mantenere Giorgio Pasquinucci Piombino. Scadrà il 15 gennaio il bando per la vendita di materiale ferroso di produzione della Exleali Steel su cedarweb.com, oltre ovviamente che sul sito dell'azienda potrete trovare tutte le informazioni per aggiudicarsi i lotti in vendita e ovviamente le potrete sentire nel servizio che ci seguirà. Intanto non è ancora placata la guerra in tribunale, quella voluta da Mostil in servizio. Bando di gara per un lotto di materiale dell'ex Leali Steel. Lunedì 15 gennaio è fissata la scadenza per presentare nello studio del notaio Guglielmo Reina di Trento le offerte migliorative rispetto a quella di 3 milioni di euro già ricevuta dal curatore fallimentare. L'offerta è relativa ad un lotto di blumi pronto, seconda scelta è venduto, posto come base d'asta del bando di gara indetto dai curatori di Leali Steel, Pasquale Mazza e Mariano Zanolli. La cessione verrà effettuata in un unico lotto e potranno partecipare alla gara solo società esercenti, attività industriale o commerciale, con dimostrabile qualifica di utilizzatori finali dei prodotti posti in vendita, con un'offerta cauzionata pari al 20% dell'importo proposto. In caso di più offerte si terrà un'asta al termine dell'apertura delle buste prevista dalle 11 del 16 gennaio, con rilanci minimi da 50 mila euro. Tutta la documentazione sul bando e le perizie sul materiale in vendita possono essere reperite sul sito www.lealistil.com Per quanto riguarda invece l'affitto degli impianti ex Leali Steel all'azienda di acciaierie venete BWS Steel, non si placa la battaglia legale con Mostil, che mercoledì 10 gennaio si arricchirà di una nuova puntata con l'udienza relativa all'appello da parte della società romana contro l'assegnazione della gara del giugno scorso alla società veneta. Un ricorso già ritenuto inammissibile in primo grado a seguito del decadimento di interesse di Mostil, giunto successivamente alla dichiarazione di fallimento della Leali Steel. Durante le vacanze di Natale è stato pubblicato un indice importante, il PMI Index, quello che esplicitava a chiare lettere come la fine di questo 2017 e l'inizio del 2018 per l'Italia fosse un momento davvero positivo e in particolare lo fosse per la Manifattura Nazionale. Sarà così il primo trimestre anche per la siderurgia italiana, sebbene in leggero rallentamento, si parla ovviamente di consumo, rispetto al trimestre con il quale si è chiuso il 2017. Aumenta il consumo apparente, rallentano alcuni importanti settori utilizzatori mentre ne accelerano altri. Tutti i numeri e le previsioni nel servizio. Senza entusiasmi, ma sono positive le ultime previsioni a breve termine per la siderurgia del vecchio continente. Il PIL dell'anno che si è appena aperto dovrebbe crescere in Italia e in Europa tra l'1,5 e il 2%. Nel primo trimestre dovrebbe rallentare il consumo di acciaio, passando all'1,3% dal 2,7% degli ultimi tre mesi del 2017. È previsto in crescita invece dell'1,1% il consumo apparente. Quanto ai settori utilizzatori di acciaio, è atteso il dimezzamento del tasso di crescita di comparti chiave, quali automotive e meccanica strumentale. Per contro, nel primo trimestre, l'industria siderurgica sarà trainata da elettrodomestici e settore dei prodotti in metallo. Ma come si è chiuso l'anno dell'acciaio italiano? In attesa di poter analizzare i dati di dicembre, a novembre la produzione è salita a 2,18 milioni di tonnellate, in crescita tendenziale del 3,3%. Un aumento quasi corrispondente si è registrato nell'output del periodo gennaio-novembre 2017. In totale, 22,25 milioni di tonnellate. Anche l'Italia, quindi, è inserita nella scia di crescita che la siderurgia ha tracciato a livello globale. Secondo la World Steel Association, a novembre la produzione mondiale di acciaio è salita a 136,28 milioni di tonnellate, cioè del 3,7% tendenziale. Tra gennaio e novembre sono stati 1,53 miliardi di tonnellate di acciaio sfornati nel mondo, in aumento del 5,4%. Tornando all'Italia e stando a quanto elaborato da Siderweb, tra gennaio e settembre 2017 sono aumentate le importazioni di materie prime siderurgiche, laminati lunghi e tubi. In crescita, nello stesso intervallo di tempo, anche le esportazioni, con una contrazione del flusso verso i paesi extra-UE. Quanto ai prezzi dei prodotti siderurgici sul mercato italiano, infine, a novembre si è registrata una contrazione dell'1,3% rispetto a ottobre. È sceso a 415,87 euro la tonnellata, infatti, il Siderindex, l'indice che misura le quotazioni medie alla tonnellata dei prodotti siderurgici in acciaio al carbonio sul mercato italiano. Le prime due rilevazioni dei prezzi di dicembre hanno registrato una sostanziale stabilità dei prezzi. Vi ricordo che venerdì 12 gennaio ritorna la rilevazione dei prezzi a cura dell'Ufficio Studi di Siderweb e dell'Università degli Studi di Brescia, mentre il Siderweb Tg tornerà puntuale lunedì 15 gennaio. Tutte le notizie dal mondo dell'acciaio passano da Siderweb.com. A presto! Autore dei siderweb e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti!